La scelta appunto, la sfida, insomma per un'attrice penso che un personaggio del genere veramente ti dà grandi possibilità di esplorare e di poterti insomma misurare. Infatti la mia preoccupazione adesso è quella di riuscire poi ad avere poi un progetto che mi stimoli in questo modo perché con un personaggio così, con una vita così intensa sarà difficile. L'esperienza è stata travolgente, faticosissima, è successo un po' di tutto, c'è stato il cambio di regia, poi ho incontrato Alfredo che comunque è un personaggio abbastanza esplosivo però probabilmente ci voleva anche questo su un progetto del genere. Perché insomma c'era veramente tanto lavoro da fare e tutti quanti non volevamo deludere il ricordo di Moana, quindi tutti probabilmente abbiamo sentito una grande responsabilità oltre a una grande, come dire, una grande voglia di dare e di fare. Quindi io ho cercato veramente di dare tutta me stessa anche perché è un personaggio al quale oramai sono veramente affezionata, che mi ha dato delle cose che comunque mi rimangono tuttora, adesso sono ancora un po' frastornata perché è finito da poco e sinceramente ho bisogno di una vacanza, però è una donna comunque che mi ha insegnato anche delle cose, quindi io sono felicissima e grata di aver partecipato a questo progetto. E ringrazio tutti perché il film ancora deve uscire, quindi mi sembra un discorso quasi di un film che è già uscito, in realtà stasera vedremo il promo, però posso dire ad oggi che comunque tutta la truppa, tutte le persone che hanno partecipato sono state straordinarie, anche proprio come supporto psicologico, tutti dall'attrezzista a chiunque veramente, quindi a questa truppa ci sono molto affezionata e già li ringrazio tutti. Grazie a te Giovanni, grazie per aver accettato la sfida. Grazie. Grazie.